è un... non c'è, questa roba non ha alcun senso! Questo pacco parla chiaramente della mia malattia Nel video dedicato ai vari store che ho visitato a New York c'era anche una menzione al MoMA Design Store nel quale... che figata! Nel quale, dicevo, avevo individuato un brand che non conoscevo assolutamente Minnum che si occupa di audio analogico Sul momento non ho comprato assolutamente nulla anche perché non mi stavo in valigia Ma appena tornato, eccomi qui a fare compere Caspita, non pensavo fosse fatto così bene Non so se lo sapete, ma sto facendo una piccola collezione di oggetti con la meccanica e tutta la parte elettronica a vista Non fa eccezione un oggetto di questo tipo Vedete che si vede, si riesce a intravedere ogni parte, ogni meccanismo, ogni dettaglio del suo cuore pulsante Proviamo a vedere come funziona, quindi si apre lo scomparto frontale Bel dettaglio, si carica via USB di tipo C Eh, sono un imbecille, non c'è il nastro Oh mio Dio Questa cassetta si accende e c'ha una porta USB-C sul fianco Cosa significa tutto questo? No, 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 no Cioè questa roba non ha alcun senso È una cassetta Bluetooth Io posso connettermi via Bluetooth alla cassetta e utilizzarlo come strumento per riprodurre la musica dal mio telefono Ma siamo completamente fuori di testa, cosa serve sta roba? Sono pazzi, ma è una figata allucinante, vediamo se funziona Mettiamo subito in play un brano qualsiasi, tipo questo, va benissimo Play Ma sono folli, sono completamente pazzi Senti che roba Cioè sta roba è da malati di mente, ma come ti viene in mente rifare una roba del genere? Ovviamente questo riproduce anche cassette normale Ma io non avevo mai visto un livello così geniale di spreco di energie In pratica lui ha il Bluetooth integrato, una serie di batteria, si carica USB-C, c'ha tutto un circuito ovviamente per mettere la musica E poi questa banalissima parte metallica assomiglia alla testina di lettura specchiata dall'altra parte Quindi è come se si baciassero due testine di lettura Link in descrizione, costa una fucilata, non so se lo comprerete Altro pacco, altra corsa, proseguiamo con gli unboxing Ah tra l'altro, questo device ovviamente non è su Amazon, me lo linko comunque in descrizione Ma posso spiegarvi un modo molto, molto intelligente di risparmiare un po' di soldi sull'acquisto di quasi qualsiasi prodotto online Letyshops è un servizio completamente gratuito Funziona tramite cashback, quindi vi viene restituita una parte della spesa E funziona su più di 2800 negozi, quindi ce n'è veramente per tutti In questi 2800 negozi non c'è mica solamente tecnologia Potete trovare veramente di tutto, dai vestiti ai viaggi Molto importante, visto che si avvicina la stagione delle vacanze Quindi date un'occhiata a voli aerei, hotel, quello che vi può interessare di più Come funziona il sistema? Aprite il sito oppure utilizzatela, cliccate sull'apposito link Andate a fare il vostro normalissimo acquisto Una volta completato, una percentuale della vostra spesa vi viene riaccreditata direttamente Su PayPal o sulla vostra carta di credito Pronta per essere riutilizzata su un altro negozio, magari anch'esso con cashback Insomma, completamente gratuita, facile, veloce E soprattutto c'è anche un extra cashback Se utilizzate il link che vi lascio qui sotto in descrizione e vi iscrivete per la prima volta Provatela Wow, super premium, che figata Confezione nera e i dettagli dorati, bellissima Mamma mia che packaging Ma soprattutto, olè, in tutto il suo splendore la confezione che le contiene Bello, manuale, che poi andremo a scoprire Vediamo che cosa contiene però la confezione Che lavoro, che lavoro ragazzi Queste sì, sono delle cuffie Caspita, bellissima Ma guardate i dettagli, guardate come sono fatte Aspetta, non so se riesco a mostrarvi la qualità costruttiva di questo oggetto Legno nelle parti posteriori Qui c'è del bellissimo bronzo Questa parte è in immagino alluminio Ovviamente sono delle cuffie cablate Questi sono i buchi per infilare i cavi all'interno Qui c'è un archetto super morbido e bellissimo Guardate il sistema di sospensione con cui sono attaccate diciamo all'archetto superiore In modo da non disturbare È una cosa che ha sempre caratterizzato queste cuffie Sono comodissime, potete tenerle per cent'anni Ma soprattutto leggeri in testa Guarda qua come sono elasticizzate Vanno testate dal punto di vista acustico Questo è abbastanza ovvio Un paio di cuffie non è solamente la sua forma Guardate che bello l'interno In cui si vedono dettagliatamente tutti i driver che hanno inserito all'interno Qui ci sono dei cavi Curati molto premium Guardate qua che robetta, belli Detto questo, intanto ve lo linko qui sotto in descrizione Poi le proverò con calma e ve ne parlerò magari in un altro video Dunque per il prossimo pacchettino Dobbiamo scomodare l'amico skateboard Se mi seguite da un po' sapete quanto amo lavorare in piedi Sapete che possiedo già un flexi spot dedicato a questo Il vero problema è che ormai sto lavorando dappertutto Tranne che sulla mia schivania Quindi ho chiesto ai ragazzi di flexi spot Se mi mandavano un altro tavolo Più che un altro tavolo Delle altre gambe del tavolo Visto che comunque la base già ce l'ho Eccola qua Sposto tutto, monto le gambe e vi mostro com'è Step numero uno L'ho chiesto bianco Che così, che rimane comunque con un'estetica perfetta Lo fanno anche nero Istruzione di montaggio Ne ho già assemblato uno Cacciavite Il computerino, quello che gestisce i movimenti del tavolo Queste sono le due gambe Questo è quello che vi arriva in confezione Ho richiesto le gambe quadre Prossimo step Liberare tutto Adesso non resta che girarlo e smontare queste vecchie gambe Pink in descrizione Sì anche lì questa roba per il cable management lo farò bene adesso Maledizione Ok, svitato Adesso che l'abbiamo svitato possiamo rimuoverlo Dunque, vera figata è che togliendo queste simpatiche quattro vitine Potete allungare quanto volete questa parte centrale Anche per tavoli molto larghi come il mio Viti A E' 40 Fatto questo possiamo posizionare le due gambe E una 2 Posizioniamo le gambe Tocco finale attacchiamo il display Connettiamo la cavetteria Questo va qua E adesso possiamo finalmente girarlo Yes Fa un po' ridere eh Perché è bassissimo così Oh sì Senti che silenziose Ora serve tappare tutta questa parte sotto Con questa parte in metallo Ora per fare le cose fatte bene Voglio attaccare questa ciabatta qui sotto Così posso alimentare il tavolo e tutto quello che mi serve Link in descrizione anche della ciabatta Eccoci Ciabatta installata L'idea è di avere un unico cavo che alimenta tutto Tra l'altro figata C'ho le memorie Vedete Lui va automaticamente in attezza da seduto E non ne devo pensare a nulla Ok c'è ancora un po' di casino Ma il tavolo è installato Flexispot ovviamente vende anche i piani tavolo e le sedie Link in descrizione C'è anche uno sconto Altro pacco altra corsa Questo L'ho acquistato nell'esatto istante in cui il mio aereo Che stava atterrando ad Amsterdam E' atterrato Mi è venuto un raptus di acquisto Perché mi è arrivata una pubblicità su Instagram Li avevo visti durante il sferone del mobile Alessi La conoscete E' un'eccellenza italiana per quanto riguarda il design Mamma mia anche la scatola è bellissima Maledizione 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 E mi toccherà tenerla Che palle Qua già vedete che cosa sono Sono dei disegni tecnici nella parte superiore Qui c'è un cartiglio di quelli Sempre da disegno tecnico Fighissimo 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 Do Virgil Ablo Sapete che sono un amante delle sue idee di design Ha prodotto dei pezzi veramente pazzeschi Soprattutto hanno acquisito un sacco di valore Dopo la sua prematura di partita Uno E una due Qui una gigantesca vite senza fine Che vi chiederete che caspita ho comprato Bellissimo acciaio credo Con questa finitura opaca Sul fondo c'è scritto Alessi Ablo Ricordo ovviamente dell'attrezzatura da ufficina E queste Sono Le posate Lo stile E' quello di una chiave inglese E ad essere onesti La genialità sta nel nome Si chiamano conversational object Parla di condivisione Si parla di Completamente cambiare il paradigma Con cui si accede alla posateria Che di solito sta vicino al piatto Ma soprattutto Diventano assolutamente Un oggetto di conversazione Cioè che diavolo hai comprato E perché diavolo hai sta roba In mezzo al tavolo Link In descrizione credo Dunque Nello scorso unboxing Avete sicuramente visto Non so se si vede Il bellissimo Dator Della Solari Udine Visto il suo prezzo E il fatto che non è disponibile Facilmente su Amazon Ho pensato di venirvi incontro E portarvi un prodotto Che ha preso ovviamente Una piccola realità Dal Dator E anche questo Devo dirvi la verità L'ho vista a New York Bello Altro non è Che un gigantesco Orologio da appendere Però insomma E' assolutamente scenico Semplice Non costa un'esagerazione E appeso al muro Secondo me fa la sua Assoluta porca figura Ovviamente va a batteria Questa è la sua vera direzione Questo è il brand Carlson Ma che figata Non ho potuto Fare a meno Di trovare un'alternativa Più economica Non ci assomiglia Non c'entra assolutamente Nulla con rimuovo Perché non ha le righette Non ha niente Però mi piaceva l'idea Di avere un trolley In alluminio E insomma Se siete degli amanti Del viaggio E state cercando E state cercando Una soluzione Per muovervi in giro Beh questa potrebbe Assolutamente Fare al caso vostro E un progetto degli interni Assolutamente brillante Come vedete C'ha tutti questi sistemi Di aggancio Per il carico Abbiamo anche Dei vari organizer Questa roba Vi cambia la vita Come vedete Ci sono anche i simbolini Trucco Ma potete cambiarli Switcharli Vedete Sono addirittura Fatti con il velcro Al di sotto Di questo lato Come vedete C'è un ampio spazio Una patellina Compattatrice Un bellissimo coso Per mettere il nome A paccarlo fuori Che tra l'altro Con questo colore alluminio È assolutamente una figata Link in descrizione Ma Eccola qua Bella Leggera E anche qua Con tantissimo spazio A disposizione Link in descrizione Altro pacchettino Altra corsa Oh sì Disco in vinile Veramente incredibile 180 grammi Una meraviglia Fisarmonica E sassofono soprano Fidatevi Ascoltatelo Tra l'altro Su Apple Music Trovate anche la mia playlist Se cercate Autocliman Su Apple Music Dovreste riuscire a trovare Tutta la musica Che ogni settimana Suggerisco Link in descrizione Altro pacchettino Sono gli amici Di Outoff Che abbiamo già Ampiamente Visto sul canale Per quanto riguarda La versione invernale Ma adesso sono arrivati Con una nuova tecnologia O meglio Con la stessa tecnologia Ma trasportata anche Per l'estate Uh che figata Questa è la versione rossa Ho chiesto anche La versione trasparente Se non ricordo male Questo è un piccolo Pannellino fotovoltaico Che a seconda Della quantità di luce Che lo investe Scurisce o schiarisce La lente in maniera Istantanea Una vera figata Ma ve ne parlerò In un altro video Adoro quando la tecnologia Arriva anche su oggetti Di tutti i giorni Per il prossimo pacco Mi sa che ci dobbiamo Spostare invece Eccola qui In tutto il suo splendore Non vi preoccupate Tra un po' Ve la mostrerò In un video dedicato Intanto Andatevela a scoprire Nel link che vi lascio In descrizione È molto figa Completamente elettrica Ma con un bel motore Sospensione frontale Bella Bravi Quindi niente Su ottagono.shop Trovate i wallpaper I filtri I preset Tutto quello che vi può servire Per supportare il mio lavoro Grazie a tutti